a questo non ci sarà nessuno siamo soli e una persona c'è e va salutata è Marzia la prima e quindi il saluto va a Marzia ci troviamo in questo centro di Sanremo sono le 4.49 chi è? siamo le 4.49 è preciso è preciso guardate siamo a piazza come si chiama qui? ma c'è un po' di piazza Colombo piazza Colombo dove ci sono i concerti qua è l'unico momento della giornata in cui attraversiamo qua passiamo nella passerella facciamo una passerella scusate scusate è che noi ci facciamo una passerella subito cioè facciamo una passerella in diretta la passeggiatina vedete buongiorno a quest'ora non ci posso credere che arrivano già adesso a fare foto le cose buongiorno tu fai una diretta a me e io faccio una diretta a te a me il video ah tu fai il video tu fai una diretta buongiorno ragazzi qui c'è già confusione buongiorno dopo grazie signora buongiorno ciao ciao buongiorno 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 tutto bene eh buongiorno benchia siete un branco di pazzi siete va benchia questo buongiorno 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 ma Mateus ma tu già qua sei ma tu dovevi venire dopo però dai po' giuri ma io dovevo venire in ritardo ma sono arrivato adesso dov'è il baretto nostro scusate devo andare al bar un attimo a fare una diretta ci vediamo dopo eh facciamo dopo faccio tutto foto autografi qualsiasi cosa eh e vado a mangiare un altro no facciamola dobbiamo girare una cosa adesso certo ma non ne vieni minchia le cata aspetta che ora stanno dormendo ancora va cioè ragazzi questi allora guardate ciao adesso arriva la banda e poi li svegliamo bene capito a dopo a dopo buongiorno buongiorno eccoci qua qui siamo all'Aristor buongiorno come sta tutto bene facciamo una passeggiata venga venga io sono anziano come lui aspetta un secondo forse ho freddo un caffè nel mio bar eh posso freddo un caffè nel mio bar qui qui andiamo qua stiamo andando al baretto qua non so se il suo abbiamo un bar aperto eh è certo allora certo eccoci qua vediamo cosa abbiamo qua grazie buongiorno grazie buongiorno guardate sanremo pulita vedi viene lavata via matteotti viene lavata la mattina guarda come fosse casa adesso ci facciamo una piccola buongiorno buongiorno salutiamo il bolpino ciao caro buongiorno stiamo tutti in diretta ah che meraviglia di bar abbiamo appena aperto ma è il suo bar questo sì ma non ci credo io ho beccato al volo lui ho beccato sono arrivato sono arrivato prima del proprietario del bar ragazzi incredibile buongiorno e sanremo allora sanremo è così capito alle 4 e 53 qui c'è la batteria si suona tranquillo e nessuno ti denuncia ragazzi e nessuno ti denuncia allora siamo qua buongiorno adesso però adesso un attimo solo aspetta io un bel caffè doppio se c'è buongiorno buongiorno a tutti buongiorno buongiorno ma tu l'hai visto tu non c'eri io sono qui da 5 minuti guarda chi c'è siamo felici siamo a sanremo facciamola salutiamo gli amici del river caffè a roma ciao ragazzi ciao ragazzi torneremo presto se ce la faremo se ne usciremo vivi se sopravviviamo se sopravviveremo a questa settimana ci vediamo a roma domenica no lunedì mattina lunedì mattina si speriamo una settimana com'è ma questo si alza no buongiorno ma voi siete sempre aperti a quest'ora no hanno aperto per noi ma che carini hanno aperto per noi scusate ci hanno aperto per noi questo è un antissimo di quello che ci stagano dopo questi dietro si si non lo so 35 ecco qua si puoi suonare suona suona il topo non va bene grazie si perfetto vuoi fare qualcosa va 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 ma prego sono le 4 e 50 ma si vuoi suonare ci vorrebbe mi vorrebbe purtroppo bisognerebbe che fosse così ma no guarda la casa guarda la casa io sono io costruisco cose vedi guarda ci sono i tuoi amici ci va al mare ci trafila e poi li andi ci va al mare e pedalando il vento in fascia respirare e le voglile che il fuoco è corrompio come la guardò e poi si stai fa sulla spiaggia e se ci scappa poi non ne facciamo un rana e lo zampilla ripescare la chiesa russa che è un'impegna che è un'impegna e poi si stai fa il nostro mondo è il regalo e anche da ruotare se ne vediamo tre di vestiti e il mio nome non vanno in cento erogli ma che non lo fa a Trascaremo ci sono solo tre stagoli l'interno l'abbiamo chiuso fuori dai portogli e in qualunque malattia sparisce come per magia c'è gente che guarida dalla sua magia grazie dichiariamo la pace esatto bello eh bello 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 dichiariamo la pace il nostro video del caffè abbiamo anche i fotografi che sono arrivati si eh sono le 4 sono le 5 allora ci vediamo su già abbiamo l'inizio di tutto abbiamo l'inizio di tutto quando è che vado a svegliare Bezzebù? Figi quando andiamo a svegliare Bezzebù? eh a che ora mi svegliamo Bezzebù? eh 6 4 tu hai visto il filmato quello di buongiorno filmato piccolino dopo la banda no no tu l'hai visto? no buongiorno buongiorno ragazzi è Poma è Poma si lo conosco si ciao Poma come stai? ah io bene tu come stai Fiore? ah è bene bene ce l'abbiamo fatta ti ho portato mezzo a Friuli Venezia Giulia qua da condividere con i tuoi soci qua ciao Mauro ciao Fabri di qua ciao Giorno prego prego mi amici di cosa vuoi iniziare? intanto saluto a Massimo Robioni eh noi saluto il grande Massimo saluto anche a Friuli Venezia Giulia eh qui arriva da Udine eh da Udine io sono Friuli Venezia Giulia lo vedete? oh vediamo insieme cosa c'è dai ragazzi qua iniziamo qui c'hai tre matti allora guarda qua vediamo figi tiè specugna si ma vedi che vino c'è dentro? perché tu vai oltre eh c'è l'oltre per te c'è l'oltre abbiamo l'oltre eh rosso il tuo credimento è andata è andata questa è andata oltre ragazzi qui siamo oltre poi specugna questa l'ho già sommettere allora amici qui è solo qua solo qua succede questo solo qua può succedere che alle quattro e e rotte succeda che ci sia un'orchestre dentro un bar niente di organizzato che poi arrivi direttamente da Udine e ti porti uno specugna e qua c'è il kit del Friulano la colazione è assicurata qui c'è il kit del Friulano il frigo friabile il frigo friabile ma guarda inutile che apro tutto perché qui c'è anche il San Daniele ci ha tagliato per voi San Daniele ragazzi vabbè che vi devo dire io vi inviterei tutti perché allora posso dare in colsegna perché qui tutto 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 diamo in colsegna Cristina vieni guerriero diamo in colsegna ragazzi avete avuto mai tanta gente a quest'ora? ma no mai a quest'ora ragazzi abbiamo il torcetto tu che sei stato a Sacile dovresti conoscere la gubana eh no ragazzi questa 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 ragazzi la conosco benissimo no purista è la torta di rose si chiama la torta di rose anche si chiama questa eh allora scusa mi tieni buona colazione a tutti se volete un bicchiere di specogna aspetta mettiamola la busta buongiorno ragazzi e questa è una maglia dell'Udinese eccoci qua e questa qua la condividere con tutti eh questa con tutti grazie grazie ragazzi guardate qua viva Sanremo due due e eccola qua Friuli Venezia Giuri ragazzi questa la daremo anche a Belzebù non appena si sveglia anzi non appena andremo a svegliarlo va bene qua ci sono i bicchieri state con noi perché adesso andremo a svegliare apri bottiglia ragazzi mi devo mettere tutto dentro perché dobbiamo mettiti qui la bottiglia che ci sono i bicchieri e poi per te FF così l'abbiamo personalizzata tieni tieni questo lo metto qua FF cioè mezzo Friuli qui per noi basta questa qua grazie 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 a te grazie grazie a me abbiamo finito adesso c'è di tutto di più grazie caffè per tutti pagamadeus vai ecco qua abbiamo i ragazzi del mattincio non scordiamoli a Roma no poveri ci mancano tanto vieni qua e poi abbiamo il grande Vincenzo Mollica che è simbolo di cosa che c'è? te lo fai un rientro da Nina Zilli con Bigio ah si vieni qua vieni qua vieni qua scusa Bigio abbiamo il nostro ha bisogno scusate un attimo ci assentiamo un secondo si è che intrattene qui? volete intrattenere? ecco facendo volare se vuoi volare signori ci fanno vi intrattengono un attimo io so da fare prego il duo come vi chiamate? Maxiamma band eh? Maxiamma band io ho capito la io ho capito la schiamma band tipo il cortisone vabbè Caruso incide oh sole mio nel New Jersey eh beh nella ricorrenza esatto fai vedere che che ci manca quando si parla di Saremo non si può Vincenzo Mollica due spettacoli di successo a Roma e uno a Milano alla Cinvolti l'ho visto l'ho visto per portare la sua carriera l'ho visto grazie mille grazie dov'è la? non me l'hai portata? eh? non me l'hai portata? ah poi devo dire me la sono dimenticata devo dire l'orecchia all'inizio ah ah si ho capito eh che sto dimenticando ma così vada tipo così messo qua sotto credo ah l'info dell'innozile l'info dell'innozile l'info dell'innozile l'info dell'innozile l'info dell'innozile l'info dell'innozile eh Nina grazie Nina grazie il video il video c'era anche noi ce l'avevamo anche noi si ballavamo bella la canzone perché la canzone mi dice che dice per colpa di Amadeus dormiamo poco per colpa di Amadeus qui c'è un festone vogliamo andare con volare eh? attenzione andiamo con volare 3 2 1 gioia per le nostre orecchie gioia per le nostre orecchie 4 2 2 3 3 1 5 4 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 3, 2, 1... Ma il prossimo anno... Io esco con queste ciabatte a casa, mia moglie mi... Guarda che roba. Ah, c'è Sanremo. C'è Sanremo. È il regalo che ho apprezzato, credo di... Grazie. Ciao Fiore. Allora... Fiore. Qui abbiamo tanti regali oggi, la generosità del nostro... No, vabbè. Il santo di Sanremo. C'è da Roma, guarda che è arrivata qua. Ragazzi, adesso noi dobbiamo andare a preparare la puntata, quindi... Puoi... Un pochino, sì, che ci... Oh, sei tornata. Sì, Fiorellino, sono tornata solo per te, solo per te. Nessuno, ti giuro, nessuno... Dov'è, dov'è? Guerriero? Me l'hai portata? Non ce l'hai? Non ce l'hai? Col silenzio... Ok, ok. Nessuno, ti giuro, nessuno... È come Fiorello ad Arrifonello... Se tu e io staremo, ti divertirai con Fiorello... Che rima, ragazzi. Grazie, grazie. Questo per noi? Sì. Grazie. Allora, ragazzi, noi adesso dovremmo andare a... Mario, il... Sì, c'è... Eh, sì, eccoci. Tacci, guarda. C'è il nostro Amadeus, poi Giorgia, Marco Mengoni, Mannino, poi la Cuccarini, e poi il grandissimo Fiore. Grandissimo artista, ragazzi. Grazie, grazie. Oh, lo stesso fisico mio. Grazie, grazie. Guarda che bello che hai fatto, guarda che bello artista qua, guarda, ragazzi. Eh, ci pegliate, chi sei per te? È certo, lo tenissimo. Tenitele, tenitele. Grazie, ragazzi. Ti aspetto a Udine, eh, mi raccomando. Quando vengo ci vediamo, eh. Ragazzi, questo è il nostro. Allora, questi sono i miei. Bigio, non ti scordate gli occhiali. E sempre con la diretta noi usciamo. Signore, il mio caffè doppio e il mio Dario, a cassa, ce l'hai. Io pago un doppio e un... e basta. E la maglietta di pizzai di Sanremo. Alla cassa, alla cassa. Dario, un doppio. Tu che hai preso? Grazie, Fione. Ragazzi, passata la cassa, però, eh. Stacca soltanto la maglietta di pizzai di Sanremo. Ah, fatta questo, possiamo andare. Andiamo, ragazzi, su che dobbiamo... Io non posso... Scusate. Buon lavoro, Fioreca. Eh? Salutiamo Gemellaggio con gli amici della notte della Taranta. Ah, sì, come no. Gemellati con Sanremo, non lo so, però sarebbe... Vi gemelliamo adesso. Ciao, amici. E viva la Taranta. Eccate. Siamo gemellati. Andiamo, ragazzi. Ciao, dobbiamo andare, vai. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao. Buon lavoro, buon festa. È tutto molto bello. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao. Scappiamo, scappiamo. Non adesso, dopo la puntata facciamo tutto. Dopo la puntata, ragazzi. Dopo la puntata, dopo la puntata... Fiori, fiorelli, saremmo. È bello vicino. Visciti, dopo la puntata facciamo tutto. Sì. Eh, dobbiamo andare a preparare, ragazzi. Vai. Dalla Puglia. Grazie. Alle tre di mattina. Eh, guaglio. È qui. Eh, guaglio. Ehi, là. Io non mollo mica la diretta, eh. Ancora in diretta sto. Mai preso un caffè così... così agitato. Ciao, ragazzi. E' un appartamento? Ah, sì. Allora, dritto. Ciao, ragazzi. Questa me la ricorda. Siamo già qua per te. Grazie, ragazzi. Adesso andiamo a preparare la puntata. Prepariamo la puntata e poi torniamo. Dicevi? Un saluto a Natale. Alle? A Natale. A Natale. Il marito. Ah. Diciamo a Natale. A Natale. Ciao. Ragazzi, arriviamo con la banda. Dai. Siete arrivati? Dopo, dopo. Facciamo tutto dopo, ragazzi. Tutto. Vedi che dicevo io, guarda. Quella cosa che dicevo io. Quello spostato qua. Ma non si può fare più, no? No? Questo spostato qua, capito? Ci passiamo. Ma non si può fare? Eccoci qua. Questo è il nostro appartamento, così ve lo facciamo vedere. Questa è la casa, il quartiere generale di Viva le Due. Senti, ma a Belzebù quando andiamo a chiamare? Buongiorno. Buongiorno. Vediamo com'è. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Qui ci abbiamo, vedete, tutta di bito. Qui ci abbiamo i costumi. I costumi. Qui l'aristonello che ancora è chiuso. Buongiorno. Buongiorno. Questo è bello. Mi piace sta scatola che ho scritto Charlie Chaplin. Fantastico. Buongiorno. Buongiorno. Redazioni, frighi. Frighi. Guarda che c'è qua. Che bello. Siamo accampati. Guardate i tecnici. Accampatissimi. I tecnici per terra. Il nostro Max Sabini per terra a montare i pezzi. Guarda l'angoletto mincato. L'angoletto dedicato. Alla mincato. No, vabbè. Sì, l'angoletto. I pupazzi. Eccoci, giuri. Sto arrivando, giuri. Aristonello, vedete? Questo è l'aristonello. Eccoci. Vabbè. Io direi che per questa mattina... La ragà, c'è una diretta di così... Siamo ancora in diretta, eh? Siamo ancora in diretta. Salutiamo Pigi Montebelli. Buongiorno. La nostra Cristina Ambrosi. Eccolo qua. Guerriero. Come si chiama lui? Aspetta. Casciari. Pier Giorgio Camilli, il nostro giista indaffaratissimo in telefonate tecniche. Ecco, in questo momento. Vedete? E poi il nostro balconcino, che io chiamerei comunque... Il balconcino lo chiamerei il balconcino di Mollica, anche se qua Mollica non c'è stato. Però tutti i balconcini si chiamano balconcini di Mollica. Quindi io questo, in titolo, ragazzi, in titolo, ufficialmente, questo balconcino a Vincenzo Mollica. Vai. Balconcino di Mollica. Comunque, il balconcino. Tutti i balconcini di Sanremo, dove poi si chiameranno il balconcino di Mollica. Tutti. Anche quello è il balconcino di Mollica. E questa è la visuale nostra. Eccoci. Ragazzi, occhio che sennò vi faccio il discorso, eh. Eccoci qua, i nostri tecnici all'opera. Buongiorno, ragazzi. Ma gli strumenti dove sono? Ah, ecco lì là. Perché quest'anno abbiamo anche gli strumenti, vedi? Lo so, quella delicata lei è. Ti posso dire che l'ha vista sull'Ariston, ragazzi, guarda che bella vista. Ma come si fa a pensare di portare... Qualcuno vorrebbe portare l'Ariston fuori, cioè il Sanremo fuori dall'Ariston. Sareste d'accordo? No. E' troppo romantico, cioè l'Ariston, è troppo la storia dello spettacolo italiano, ragazzi. Ma che bella, cioè io starei con questa inquadratura fissa, guarda che bella, guarda, guarda. Guarda che bella, guarda. Come si dice, casa è lavoro, eh, qua. Che poi lavoro. Vediamo da qua. Ah, che bella. Lì ci abbiamo, allora, guardate lì, lo spettacolo di Luca Ravenna c'era, Barba Scura. Eccoci qua. Facciamo un po' di promozione agli artisti che verranno qui all'Ariston. Ecco qua, Luca Ravenna. Ti saluto, anche se non ci siamo mai incontrati. Ti stimo e ti ammiro. Ti stimo e ti ammiro. E' bella, ti stimo e ti ammiro, ti stiro e ti ammiro. Eccolo qua. Allora. Ciao Virginia! Ah, quelli sono pubblicità. Qui stava inquadrando. E' dalle 11 che è lì. Chi? Lui, lui. Dalle 11 di ieri sera che è lì, è la trasera. Dalle 11 di ieri sera che stai qua. Ci sono pazzi. Voi da che ora? Dalle 3. Dalle 3? Dalle 4. Dalle 4, la signora è dalle 4. Dalle 4. Sai che quella porta la lascerei sempre aperta, quella? Intanto non fa freddo, dai. No, no, non fa freddo. Io la lascerei sempre aperta, quella. In modo che io posso sempre non aprire, chiudere. Non ti preoccupare. Intanto ci sta. Senti, va, va. Meglio che la chiudiamo, sì, sì. Scusate, ma avete visto, avete visto? Per la gioia di quella casa. No, va. E' incredibile. Nel frattempo salutiamo gli abitanti qui di questo, tra l'altro palazzo, di questo palazzo, tra l'altro, bellissimo. Ha visto che bello? Guarda che bello che è. Cioè, Sanremo è proprio bello, c'è niente da fare. Aristonello. Parapapapapara. Ciao ragazzi. Anzi, arriviamo, eh. Oh, sai qua, sono ancora in diretta. Ok, ragazzi, vi salutiamo. Vediamo, vediamo se c'è, vai. Ma quel mapping lì lo facciamo apposto a noi o è un riflesso di questo? È una politica sulle che ti diceva. Abbiamo anche la redazione del secolo XIX. Dove? Lì, guarda. La redazione del secolo XIX. Salutiamo gli amici del secolo. Dove sono? Vedi, ha candidato a scrivere. Sì, sto zoomando. Il secolo XIX, eccolo là. Ci siete, amici del secolo IX? Se state guardando la diretta, affacciatevi. La luce è accesa. Eh, ma non c'è nessuno. Secolo XIX. Ma credo che sia, no. Secolo XIX. Buongiorno. C'è gente che saluta Poma. Buongiorno. Ciao. Ecco, eccolo. Buongiorno, stai inzuppando il biscotto, c'è scritto. Qualcuno. Forse erano riferiti ad Amadeus, non lo so. Guarda chi c'è, vieni, vieni. Ciao, ciao, ciao. E le mie fan numero uno, tutte e due. Ciao. Ti ricordi? Ti ricordi? Ma no, ma lo so. Lei, guarda qua, da cellulare, vedi lei? Ah, sì, sì, sì. Elena. Elena. Vedi che si ricorda. La Braghero. Ti ricordi, ti ricordi. Ti ricordi del contatto. Evviva Toto Cotugno! Sono lì. Vai. Lasciatemi. Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano. Più forte. Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano. Ehi, la. Eccole, guardate le sculture di Lodola. Che bella. Ci siamo anche noi, mi sape. Questa è Simone Aventura. E Terzigio. Sì. Terzigio. E Piergigio. Quelle pubblicità, non possiamo far vedere. Va bene. Va bene, ragazzi, adesso chiudiamo la diretta. Ci vediamo tra un po'. Dobbiamo preparare la scaletta, purtroppo. Ce la volete far fare un minimo di scaletta, che dici? La facciamo? Per poi non seguirla, ovviamente. Ragazzi, allora, tra... Allora, sono le 5.19. Alle 6 in punto andremo a svegliare... Non si chiama più Amadeus. Si chiama Belzebù. Belzebù. Belzebù, 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 Belzebù. Signori, non urlate Belzebù, sennò ci mandano le guardie svizzere dal Vaticano. Vi prego. Scusate. Belzebù, Belzebù. Belzebù, Belzebù. Ero, sono Mazzotti. Eccolo là. E ci sei adesso. Ma non dimentico tutti gli amici miei che sono ancora là. Buongiorno a tutta Sanremo! Tappetini nuovi, apre magic. Deodorante appena preso che fa molto chic. Ci vediamo dopo! Grazie ragazzi. Allora, scusate. Siamo sempre in diretta. Allora, chiudiamo questa diretta meravigliosa di oggi. E ovviamente alle sette l'appuntamento è su Rai 2 per la puntata in diretta da Sanremo di Viva Rai 2. Viva Sanremo che cominceremo domani notte, ma tra un po' saremo in diretta con Viva Rai 2, quello normale, tra virgolette. Viva Rai 2 a Sanremo. E tra poco, signori, la sveglia a Belzebù.